fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali i truffatori del nostro tempo come l'amore di una madre per i propri figli ma anche sulla fragilità fisica e non solo di chi come gli anziani si sente ormai relegato ai margini di una società che non riesce più a capire incapace di tenere il passo con un mondo che corre troppo veloce per gambe che hanno già raggiunto il punteggio più alto nel contapassi della vita uomini e donne a cui a volte può bastare un sorriso un'attenzione rivolta senza chiedere nulla in cambio per sentirsi disposti a concedere la propria fiducia a chi se ne finge degno inevitabile che vi sia a chi di tutto questo tenti di approfittare scogitando le strategie più varie per scalfire la naturale diffidenza delle proprie vittime subdole e fantasiose le tecniche adottate dai truffatori hanno schemi ricorrenti conoscerli è il primo passo per difendersene come la truffa dell'incidente l'anziana riceve la telefonata di un uomo che dice di essere un carabiniere la voce del militare è gentile ma ferma mentre spiega all'anziana che suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente nulla di grave per carità ma qualcosa è andato storto con l'assicurazione e il ragazzo potrebbe trovarsi nei guai con la giustizia guai seri per la donna sono attimi di puro panico ripensa l'ultima volta che ha sentito suo figlio e come può esserle di aiuto il carabiniere finto da parte sua la rassicura una soluzione c'è basterà pagare una piccola cauzione e il suo ragazzo sarà libero altrimenti non resterà che trattenerlo in camera di sicurezza il linguaggio e da cinema americano ma la signora non lo può sapere lei sa solo che suo figlio ha bisogno di aiuto i 3.000 euro richiesti per la cauzione non sono uno scherzo ma non importa una piccola riserva di denaro l'anziana la tiene sempre in casa per il resto è pronta a precipitarsi alla posta un avvocato le assicurano i malviventi verrà a ritirare personalmente il denaro non è passata un'ora dalla telefonata del carabiniere che la donna è già uscita dall'ufficio postale nella borsa ai 1.000 euro che ha potuto ritirare grazie all'intervento del direttore della filiale che la conosce da sempre il sedicente avvocato poi si farà vivo dopo qualche ora per farsi consegnare la somma di denaro del fenomeno delle truffe ai danni degli anziani sono ben informati anche i direttori degli uffici postali anche grazie a una capillare campagna di informazione e nel dubbio è ai carabinieri che il direttore si rivolge a questo punto i veri carabinieri intervengono e rispondere al citofono allora convenuta sarà la donna vittima della truffa in atto ma a ricevere il finto legale ci penseranno i carabinieri di questi episodi diversi si sono verificati e continuano a verificarsi anche nella città di agropoli nel cilento l'appello delle forze dell'ordine è precisamente della compagnia dei carabinieri di agropoli agli ordini del capitano fabio lagarello è quello di diffidare da queste telefonate e chiamare immediatamente il 112